Il nostro piccolo Joe è pronto, mancano poche ore, al tanto atteso intervento nella clinica di Miami del professor Paele Illuminare che sta seguendo Giovanni e la sua famiglia per realizzare un sogno. Oggi è arrivato per lui un augurio speciale. Ciao Giovanni, mi raccomando, fatti valere, torna e poi subito a calcio. In bocca al lupo, in bocca al lupo a te, la mamma, il papà e ti vogliamo vedere presto. Ciao, auguri. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha seguito ed è stato protagonista di questa gara di solidarietà iniziata lo scorso febbraio quando la coraggiosa mamma Erika lanciò attraverso le nostre telecamere il primo accorato appello per raccogliere quei 400.000 euro necessari all'operazione. Voi telespettatori siete stati meravigliosi e la regione, lo ricorderete, ha contribuito con 50.000 euro. Siamo arrivati al momento fatidico. Sta per avverarsi il desiderio di vedere il nostro cucciolo di guerriero correre e camminare con e come i suoi coetanei. Ciao, auguri. E anche da tutti noi, forza Joe, siamo con te. Ciao, auguri.